Allora, presentiamo questa mattina il cartellone della nuova stagione teatrale del Teatro La Ribalta di Salerno, stagione teatrale 2016-2017. Il cartellone principale è appunto i diversi volti del teatro, prende il titolo proprio dalla varietà di spettacoli che proponiamo quest'anno. Spettacoli per tutti i gusti, ci sono compagnie amatoriali, compagnie professioniste del territorio salernitano ma anche del territorio campano. La rassegna prevede 16 spettacoli di cui praticamente, come ho già detto, 8 saranno professionisti, 8 invece amatoriali, iniziamo a ottobre per poi terminare a maggio. La proposta di quest'anno è appunto quella di far avvicinare il teatro anche alle nuove generazioni, quindi cerchiamo anche di facilitare, di far entrare i ragazzi, i giovani in teatro, proponendo una varietà di spettacoli differenti. Oltre a questo cartellone teatrale c'è anche un cartellone bambini che si intitola Piccole emozioni ed è un cartellone proprio dedicato ai più piccoli con spettacoli tratti sia dal repertorio della Disney sia spettacoli tratti da libri di narrazione per bambini. In scena sarà sia la compagnia La Ribalta che la compagnia stabile del teatro e sia la libroteca Saremo Alberi che appunto porta avanti questo progetto di messa in scena di spettacoli tratti da libri proprio per promuovere la lettura anche per i bambini. Anche quest'anno inoltre ci sarà la scuola teatrale del Teatro La Ribalta di Salerno ed è una scuola finalizzata proprio all'ingresso di nuovi attori in compagnia ma anche alla professione teatrale con un programma accademico. Partner di questa scuola sarà il Centro Studi delle Arti che è l'Accademia di Musical con la direzione artistica di Galatone e quindi noi faremo appunto questa convenzione con loro per cui chi vorrà iscriversi all'Accademia di Musical di Napoli potrà seguire i corsi presso il nostro teatro. Altre proposte saranno poi varie rivolte ai sempre più piccoli con un ludoteatro per bambini molto piccoli dai 3 ai 5 anni che sarà coordinato non solo da insegnanti di teatro ma anche da educatori proprio per insomma ovviamente parlare del teatro ai più piccoli attraverso un'atmosfera di gioco e di pedagogia teatrale.